Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo alla protezione risorse di Windows come puoi vedere io ho fatto una verifica e a me funziona perfettamente riguardo ai file danneggiati trovati e ripristinati, ha ripristinato così i file danneggiati e grazie a un servizio più vari comandi da inserire su prompt dei comandi si è risolto tutto quindi in questo caso se ti esce questo errore riguardo a che la protezione delle risorse non è andata come previsto quindi c'è stato così un errore riguardo a questa operazione tu adesso dovrai fare solamente tre cose eseguire due comandi e attivare così un servizio quindi in descrizione ti ho lasciato il comando da inserire che si chiama sc spazio per aprire cmd andiamo a fare cmd esegui come amministratore quindi andremo a scriverlo sc spazio config spazio trust di installer spazio start uguale spazio demand invece di scriverlo puoi direttamente copiarlo sotto al video poi una volta fatto fai invio operazioni riuscite andrà così a installare un servizio che poi andremo qui sopra sui servizi e andremo così ad attivarlo una volta fatto andiamo su net scriviamo net start trust din installer facciamo spazio servizio programma di installazione dei moduli di windows in fase di avvio avvio del servizio programma di installazione dei moduli di windows riuscita abbiamo installato così questo modulo e sicuramente adesso ci sarà qua sopra ed eccolo qua programma di installazione dei moduli di windows e abbiamo installato così un servizio sul nostro sistema quindi tu per aprire questo servizio tu basta scrivi qua sopra servizi ed eccolo qua e vai a cercare il servizio che si chiama programma di installazione dei moduli di windows ci clicchi sopra se in questo caso a te c'è scritto che è interrotto e devi cliccare su avvia tu clicca su avvia io per esempio faccio interrompi faccio automatico e poi faccio avvia e avvio così questo servizio e faccio applica faccio ok chiudo qua ovviamente nel video non l'ho detto però ci sarà sicuramente una linea scritta sotto che dirà che per fare tutta questa cosa va fatto come amministratore quindi dovrai aprire cmd come amministratore per fare tutte queste procedure e una volta fatto scrivi sfc per ripristinare e fare una scansione dei file come abbiamo fatto qua sfc spazio slash scanno farà così la scansione e verificherà tutti i file danneggiati e li ripristinerà quindi sfc spazio slash scanno e fa l'avvio in corso e non ci resta che aspettare quindi una volta fatta così la verifica avvia in corso della fase di verifica 100% della verifica come protettiva quindi una volta fatta così la verifica avvia in corso della fase di verifica 100% della verifica come protettiva protezione risorse di win nessuna violazione di integrità trovata ovviamente abbiamo risolto così il problema riguardo alla protezione risorse se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema delle protezioni risorse di windows iscriviti lascia like e per altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao